Era nato come DVD per me personalmente, poi una persona mi ha detto fai un libro che è molto meglio, il libro del DVD, e ho fatto questo, pensandoci, ho fatto gira e gira questo libro, 608 pagine, 647 foto in bianco e nero, 353 a colori, completamente in lingua, scritto in dialetto fanese, e sul fianco è riportato la traduzione in italiano perché una signora ha detto ma scusi lei mi fa un libro in tedesco che è di Fano, signora guardi non è tedesco, è dialetto fanese, io perché sono di Modena, brava signora, mi ha dato una bella idea e ho messo la traduzione in italiano. I proventi andranno in beneficenza per l'associazione Maruzza di Elmo Santini e all'associazione una speranza per Federico e io sono contento di averlo fatto sia per la città di Fano, com'ira e com'è, ma più che altro per la nostra lingua dialettale perché sarei contento che non si perdesse questo dialetto fanese che è bestiale, diciamo, mi piace da bestia.